Musica Mercoledì 29 luglio, bentrovati con l'informazione di Cilento Channel e con una nuova edizione del Tg Estate. Apriamo il notiziario di oggi con Agropoli. Nella giornata di ieri negativi i tamponi processati per quanto riguarda gli ultimi casi positivi nella cittadina agropolese. Ma ascoltiamo nel dettaglio quello che il sindaco Adamo Coppola ha detto nella diretta che ha realizzato proprio ieri sera. Vediamo. Tutto quello che accade in città e che riguarda ogni nostro cittadino, come ho avuto più volte modo di dirvi, non deve trasformarsi in una battaglia, in una guerra, in una ricerca di giuntori. Quindi quello che capita e può capitare a un cittadino, quello di essere coinvolto in un contagio, non può essere assolutamente considerato come una colpa. E' una cosa che può capitare a ognuno di noi, è una cosa che può succedere. E quindi cercare di scaricare rabbia o addirittura infamare, in questo caso, giovani di Agropoli, nel passato, a sezione della nostra città, nostri concittadini, nostri amici, soltanto perché hanno avuto la sfortuna di capitare in una combinazione negativa, che credo sia assolutamente inaccettabile per ognuno e credo che non sia il modo giusto di approcciare un problema come questo. Quindi per questo motivo voglio fin da ora, in qualche modo, raccomandarvi che la stagione deve essere, come abbiamo sempre fatto tra l'altro, di collaborazione, di sostegno e di vicinanza a chi in questo momento, di momento di difficoltà, una malattia, un virus che comunque destra preoccupazione in chi lo riceve, nella propria famiglia, nei familiari, insomma, quindi è assolutamente inaccettabile da parte di ognuno cominciare a costruire queste rischie di prescrizione o accusare chi che sia di qualche cosa. E' una vicenda che può, come ho detto, capitare e che assolutamente non deve diventare motivo, insomma, di discussioni di guerre. Questo è fondamentale, però ora andiamo a raccontarvi la giornata di oggi. Fin da questa mattina sono ripartite da parte della Nusca i tamponi che sono stati raccolti, la mattinata scarsa una vicina, poi si è lavorato anche nel pomeriggio, che sono stati poi inviati all'ospedale di Eboli per il processo e la verifica. Fortunatamente fino ad ora non abbiamo avuto, diciamo, segnalazione di casi positivi, quindi i tamponi che si sono, hanno lavorato o hanno dato esito per il momento negativo. Aspettiamo naturalmente che tutto questo processo continui, continuerà la giornata di domani e credo che le notizie più complete potranno esserci, potremmo averle, credo, nella serata di domani, però al momento ci sta comunque la notizia che non ho sentito poco fa i responsabili della prevenzione di Agropoli, mi hanno segnalato che al momento non ci sono altri tassi positivi, fortunatamente questo è un fatto positivo. Diversa invece la situazione nel comune di Castellabate, che purtroppo registra 20 persone in quarantena fiduciaria. I cittadini hanno partecipato ad una festa battesimale, dove purtroppo è risultata positiva una persona al Covid-19. Ma su questo è intervenuto il primo cittadino costabile, Spinelli. Ascoltiamo. Ieri mi è arrivata una comunicazione, mi è arrivata una PEC dall'ASL con la quale mi comunicavano la presenza di una persona nei contatti, nell'elenco dei contatti di un positivo, una persona nemmeno residente qui a Castellabate, che è stata a Castellabate nello scorso fine settimana, che è risultata nell'elenco delle persone positive, insomma nell'elenco di una persona che poi è risultata positiva. Questa persona è stata sottoposta al tampone, questo pomeriggio mi è stato comunicato l'esito di questo tampone, a quale è stato sottoposto questa persona, che ripeto tra l'altro è stata qui questo fine settimana ed è andata via, quindi è stata qui sabato e domenica, questa persona è risultata positiva al tampone, quindi diciamo questo oggi mi è stato comunicato da parte dell'ASL. Oggi, la giornata di oggi, insomma, si è cercato di ricostruire la catena dei contatti che ha avuto questa persona, che era un sintomatico, che è stato qui nel nostro comune in questo fine settimana, si è ricostruita questa catena di persone che sono 20, precisamente, che sono 23 persone, insomma in tutto, che appartengono a nuclei familiari, quindi diciamo una situazione che è circoscritta, e prudentemente, quindi questa è la scopo prudenziale, quindi l'ASL ha posto in isolamento fiduciario dal 26 luglio, quindi da ieri, praticamente dal 26 al 8 agosto, queste 23 persone, scusatemi, che saranno sottoposte al tampone. Adesso c'è questo isolamento fiduciario, dopodiché con l'ASL siamo in contatto, spero, speriamo quanto prima, perché ho sollecitato, insomma, di velocizzare questi tamponi, quindi faranno, saranno sottoposti al tampone, per capire, insomma, per avere maggiori informazioni. La situazione, ripeto, è circoscritta, perché si, insomma, è circoscritta a nuclei familiari che sono stati interessati da questi contatti avuti in questo fine settimana, e cerchiamo di capire nelle prossime ore, appunto, insieme all'ASL, come verranno i tempi, insomma, e i modi in cui saranno sottoposti al tampone per avere maggiori informazioni. E sono invece negativi i tamponi effettuati ad Ogliastro, Cilento, per quanto riguarda, invece, due persone relative ai contatti della coppia risultata positiva al coronavirus nella città di Agropoli dopo il primo contagio che è stato comunicato dal sindaco lo scorso 24 luglio. Vediamo il servizio. Arriva la comunicazione da parte del sindaco di Ogliastro, Cilento, Michele Apolito riguardo i due tamponi effettuati nella giornata di ieri nel comune cilentano legato indirettamente anch'esso alle vicende degli ultimi casi di covid nel Cilento. Il risultato dei due tamponi disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL è negativo, esito che va a smentire le voci che si sono diffuse tra la popolazione negli ultimi giorni riguardanti dei possibili positivi nel comune Ogliastrese. Il primo cittadino nel comunicato oltre a portare a conoscenza della popolazione i risultati dei tamponi invita i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a seguire le regole imposte ed inoltre diffida chiunque divulghi notizie infondate riguardanti presunte positività al coronavirus che creino allarmismo e panico tra i cittadini. E ci fermiamo qualche istante per dare spazio alle offerte commerciali. Restate sintonizzati sul nostro canale 636 Cilento Channel nell'altra poco. Le tisane di Zara prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le tisane di Zara Info 333 90 26 266 Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sotto conto corrente H24 Centro Polifunzionale Elysium Piscina semiolimpionica palestra centro fitness con attrezzi di ultima generazione pizzeria con ingredienti genuini e selezionati sala bar Centro Polifunzionale Elysium Via Lento Agropoli Salerno Info e Elysium4U.it Risarcimento Italia dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto Risarcimento Italia Via Mattine 5 Centro Le Torri Agropoli Salerno Villa Franca Adomignano Scalo per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali Villa Franca Via Cerreta 27 Omignano Salerno Il gruppo Riflessi con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria vi invita a visitare la nuova sede in Via Mattine ad Agropoli abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie profumeria fornitissima delle più grandi firme Gruppo Riflessi abbigliamento e profumeria Via Mattine, Agropoli Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti Non è una favola per bambini è MD MD Passione, tradizione e competenza Buona spesa Italia Ben ritrovati in studio con la seconda parte del nostro TG Estate Andiamo ad Auletta dove sono stati registrati diversi incendi sul territorio comunale ce ne parla la nostra corrispondente del Vallo di Diano Sentiamo Giornate di fuoco ad Auletta caratterizzate da diversi incendi Fiamme sono divampate nelle località Massavetere, Caputo, Pompeiano ed Exarci A rendere noto quanto sta accadendo il vice sindaco Antonio Addesso che insieme al sindaco Pietro Pessolano sta seguendo con apprezzione gli avvenimenti è chiaramente la mano di un piromane, dicono Siamo nel periodo di massima pericolosità per quel che riguarda gli incendi boschivi ma la cadenza regolare degli episodi non lascia spazio a dubbi Tutto è iniziato a metà della scorsa settimana e fino a sabato quattro incendi per quattro giorni consecutivi sempre tra le ore 11 e le ore 15 su un'area molto vasta tra Massavetere e Caputo andata distrutta Domenica una giornata di tregua poi la scena si è ripetuta quando il fuoco è partito dalla zona dei terreni comunali Execa nelle vicinanze c'è anche un campo sportivo siamo in zona Pompeiano dove è andato a fuoco il serbatoio di GPL della struttura sportiva il capanno agricolo di un contadino poi le fiamme sono salite verso una zona dismessa ex arci con lo chalet che è andato completamente distrutto e sono state fermate dall'intervento di un elicottero a poche decine di metri dalle case che si trovano in zona e da una cabina di metano che serve la cittadina tutto bruciato nelle zone oggi le operazioni di bonifica ad opera della squadra antincendio della comunità montana impegnata sul posto in questi giorni per le operazioni di spegnimento insieme ai vigili del fuoco la forestale di Polla la protezione civile la polizia municipale di Auletta e tanti volontari oltre al sindaco e al suo vice a seguire quanto sta accadendo anche il consigliere comunale Franco Robertazzi intanto si sta indagando per ricostruire le cause di questi roghi ad orologeria e proprio per quanto riguarda le alte temperature il bollettino della regione Campania della protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore dalle ore 12 di quest'oggi per una durata di 72 ore potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiore ai valori medi stagionali di 5-7 gradi associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione quindi si raccomanda la massima cautela soprattutto per le persone anziane e i bambini continuiamo con la regione Campania erosione e dissesti stanziati 20 milioni di euro per la costa cilentana sentiamo i dettagli è stato approvato in giunta un programma di interventi di risanamento ambientale che riguarda la fascia costiera del Cilento tra cui i comuni di Camerota Vibonati e Sapri abbiamo deciso ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca dopo il sopralluogo della settimana scorsa lungo la fascia costiera tra Camerota e Sapri di confermare subito l'impegno per finanziare e realizzare le indispensabili opere di risanamento viste anche le criticità verificate in alcuni territori per questo oggi in giunta abbiamo approvato un piano da 20 milioni di euro uno sforzo finanziario importante per far partire al più presto gli interventi mantenendo l'impegno assunto sempre oggi la giunta regionale ha approvato un programma a valere sulle risorse ancora disponibili dell'intervento metanizzazione del Cilento rivolto prioritariamente ai comuni inclusi nel programma generale di metanizzazione ma non ancora oggetto di finanziamento e ritorniamo nella città di Agropoli che anche per il 2020 ha ricevuto la spiga verde ascoltiamo i dettagli la città di Agropoli è stata insegnita anche per il 2020 della spiga verde dopo la bandiera blu e la bandiera verde dei pediatri per il comune guidato dal sindaco Adamo Coppola arriva un altro importante riconoscimento che viene assegnato ai comuni che valorizzano e investono sul proprio patrimonio rurale promuovono il turismo rurale la biodiversità e le aziende agricole tipiche migliorando le buone pratiche ambientali la spiga verde e bandiera blu dell'agricoltura viene rilasciata dalla FEA Italia la medesima organizzazione che assegna le bandiere blu e da Confagricoltura ieri mattina si è tenuta una diretta Facebook durante la quale sono state annunciate le località assegnatarie del riconoscimento 46 in tutto in 13 regioni confermiamo anche per il 2020 affermano all'unisono il sindaco Adamo Coppola e l'assessore all'ambiente Rosa Lampasona il riconoscimento della spiga verde numerosi sono i fattori che vengono considerati dalla Commissione Nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati ai fini dell'assignazione tra questi la rispondenza ai criteri contenuti in diverse aree tematiche quali acqua, energia, agricoltura, rifiuti assetto urbanistico, tutela del paesaggio ed altro una bella soddisfazione aver confermato per il quarto anno consecutivo anche questo riconoscimento che segue la ventunesima bandiera blu per le spiagge e l'ottava per gli approdi turistici oltre alla bandiera verde dei pediatri Ritorniamo adesso nel Vallo di Diano il comune di Sansa e Covid Free sentiamo è giunto l'esito dei test che ha accertato come quattro soggetti non hanno contratto il virus sospiro di sollievo per la comunità nell'apprendere dell'esito negativo dei tamponi rassicuro alla comunità dichiare esposito che nelle ultime ore nonostante la riservatezza del caso ha vissuto con apprezzione l'attesa dell'esito dei tamponi risultati tutti negativi tuttavia, continua il sindaco voglio ricordare l'importanza del rispetto delle norme anti-Covid la famiglia in questione vivendo nella normalità il periodo di vacanza a Palinuro per pura casualità è entrata nella rete dei contatti di una persona poi positiva ciò dimostra che occorre prestare la massima attenzione e rispettare le norme di distanziamento quale unica arma che possediamo per combattere la diffusione del Covid nell'augurare buone vacanze ai turisti liguri che hanno vissuto questa situazione voglio rammentare ai miei concittadini continua Esposito la necessità di non diffondere notizie false che creano solo danni alle persone e alla nostra economia è necessario il senso di responsabilità di tutti come amministrazione siamo costantemente impegnati nel controllo e nel monitoraggio della situazione tuttavia è necessario che non si verifichino episodi di assembramento nei locali ed è necessario l'uso della mascherina le forze di polizia ricorda in conclusione vigileranno il rispetto delle norme con l'applicazione delle sanzioni senza è Covid free e faremo di tutto perché questa situazione non cambi ci spostiamo adesso invece a Castellabate servizi pubblici a domanda individuale e in posta di soggiorno restano invariate le tariffe sentiamo anche per il 2020 a Castellabate restano invariate le aliquote e le tariffe dei servizi a domanda individuale e dell'imposta di soggiorno l'amministrazione comunale con delibera di giunta numero 106 del 24 luglio 2020 non ha previsto aumenti per i servizi a domanda individuale gestiti dal comune quali mensa scolastica aree di sosta a pagamento trasporto scolastico e illuminazione emotiva nello specifico il costo del buono pasto viene confermato a 2,25 centesimi di euro quello del trasporto scolastico a 10 euro mensili e la tariffa per le lampade votive nell'importo di 25,41 centesimi di euro annui il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli commenta così la decisione tenere ferme le tariffe di questi servizi essenziali è fondamentale per non gravare sulle tasche dei cittadini che continueranno comunque ad usufruire di ottimi servizi a costi contenuti e accessibili a tutti Ancora un'altra breve pausa pubblicitaria per noi a tra poco con la terza ed ultima parte del nostro Tg Estate il nostro Tg Estate Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via NITI 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento Cilento Rent, noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellavate. www.cilentorent.com Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara, prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisane di Zara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Griff delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22. Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e i rivestimenti delle migliori marche. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia. Capaccio Scalo Salerno. Convergenze, internet, phone, tv, energie. Ben ritrovati, terza ed ultima parte del nostro notiziario. Andiamo a vedere l'intervista realizzata a Vitorizzo in occasione della terza edizione del Festival della Teologia Incontri che inizierà il 3 agosto per concludersi il 5 agosto. Ascoltiamo tutti i dettagli nell'intervista. Siamo in compagnia di Vitorizzo, ideatore del Festival della Teologia Incontri che quest'anno giunge alla sua terza edizione. Per ovvi motivi che riguardano il Covid-19 quest'anno non sarà un festival itinerante ma si svolgerà principalmente nella città di Agropoli. Vitorizzo spiegherà a tutti voi come sarà strutturato il festival e poi il tema importante di quest'anno che verrà trattato. Ovviamente poi racconteremo anche degli ospiti illustri che faranno parte di questa rassegna importante e poi ovviamente gli orari e un appello importante che poi diremo al termine di questa intervista. Prego Vito. Beh allora diciamo innanzitutto, lo accennavi tu prima, l'emergenza Covid non poteva non condizionare naturalmente anche l'organizzazione del festival che però siamo riusciti a confermare. Non faremo la formula itinerante nelle diverse piazze del Cilento ma concentreremo le tre serate, il 3, il 4 e il 5 agosto nella piazzetta della Madonna di Costantinopoli nel borgo antico di Agropoli. Perché questa scelta? Perché in quella piazzetta riusciamo a garantire l'ingresso e l'uscita differenziata, possiamo garantire il distanziamento sociale, il distanziamento fisico delle persone quindi anche con le sedi e poi naturalmente i numeri della presenza fisica saranno un po' più ridotti ma fortunatamente abbiamo Cilento Channel che manderà la diretta e quindi riusciremo a coprire come sempre tutto quanto il territorio. Il tema di quest'anno è un bellissimo tema, è la donna che sarà affrontato nelle tre serate attraverso degli interventi molto qualificati perché abbiamo la prima sera una biblista, Maria Rosaria Cirella, la professoressa Maria Rosaria Cirella della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale che toccherà il tema della donna, la figura della donna nell'Antico Testamento. La seconda serata avremo un'altra teologa, Lorella Parente, la professoressa Lorella Parente che svilupperà il tema della donna nella figura di Maria. E poi l'ultima sera, il 5, avremo Don Emilio Salvatore, un altro biblista docente alla sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli che toccherà il tema della donna e Gesù. Naturalmente il programma non si riduce all'intervento dei teologi che ci accompagneranno in questa meditazione ma ogni sera ci sarà poi nella seconda parte della serata un momento particolare. La prima sera avremo una bellissima videointervista che è stata realizzata dalle giovani dell'Azione Cattolica ad Antonia Salzano, ossia la mamma di Carlo Acutis, il giovane che è stato dichiarato beato, il 10 ottobre ci sarà la cerimonia ad Assisi, abbiamo incontrato la mamma di Carlo a Palinuro quindi garantiamo sempre le diverse tappe, naturalmente è un incontro fatto in forma privata e abbiamo conferito a lei il premio incontri 2020. La seconda sera invece avremo un momento più teatrale perché ci sarà Enrico Giuliano che declamerà la preghiera alla Vergine di Dante Alighieri con un'introduzione di Don Carlo Pisani che farà un commento teologico e la partecipazione anche di Giovanna Bagnara che è direttrice di Punto Famiglia e quindi anche per descrivere attraverso la figura di Maria le sensibilità che ciascuna donna può racchiudere in sé. L'ultima sera completiamo grazie ad una collaborazione quest'anno con la specializzazione in teologia fondamentale della Facoltà di Napoli, della Facoltà Teologica di Napoli, la sezione San Luigi, concludiamo con una tavola rotonda, la donna nel Mediterraneo. Per intenderci la Facoltà Teologica di Napoli è quella che ha ospitato anche Papa Francesco proprio perché è una traccia di ricerca questa della religiosità del Mediterraneo quindi avremo Don Bruno Lancuba che è il direttore dell'Istituto di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, avremo Lina Morcos che è una docente presso la Facoltà di Napoli ma è anche del movimento dei Focolari e naturalmente viene da quella terra, viene dalla Terra Santa quindi e poi avremo l'assessore regionale alle pari opportunità Chiara Marciani, avremo naturalmente la Presidente Diocesana di Azione Cattolica Angela Russo e concluderà questa tavola rotonda la coordinatrice della specializzazione in teologia fondamentale la professoressa Pina De Simone quindi la donna del Mediterraneo è un modo per riflettere anche su come la figura della donna nell'attualità dei nostri giorni è una figura chiave ed è importante da valorizzare. La cosa che mi va di sottolineare è che naturalmente quindi senza che fosse stata una scelta costruita a tavolino ma la grande prevalenza dei relatori sono donne e questo è un bel segnale per tanti motivi uno perché dimostra come non servono cote rosa per valorizzare le donne perché le donne valide emergono naturalmente e poi è la cosa più naturale avendo appunto come tema la donna che siano le donne direttamente a parlarne e a raccontare un po' di se stesse. Ci sarà anche un momento musicale grazie ad Amedeo Giordano che ha scelto delle canzoni che accompagneranno le diverse serate e poi l'altra grande novità di quest'anno in collaborazione con la parrocchia San Pietro e Paolo di Agropoli inaugureremo la mostra sui miracoli eucaristici che aveva curato Carlo Acutis, il beato Carlo Acutis quindi la faremo proprio nelle adiacenze della piazza quindi all'interno dei luoghi dell'oratorio però quindi ci sarà anche questa mostra che sarà visitabile durante le serate estive quindi un programma molto molto ricco speriamo anche quest'anno di riuscire a cogliere nel segno. Vito non ci resta che ribadire le date quindi delle giornate dedicate al festival, gli orari e poi l'appello finale insomma che tu tieni a dare ai nostri telespettatori. Sì allora le date sono il 3, il 4 e il 5 agosto sarebbero lunedì, martedì e mercoledì. L'orario di inizio del festival è alle 21 quindi sia nella piazzetta della Madonna di Costantinopoli sia in diretta su Cilento Channel e poi l'appello importante è questo. Viste le difficoltà che ci sono state quest'anno naturalmente noi confidiamo nella provvidenza di Dio per sostenere il festival perché naturalmente sono venuti meno anche tanti sponsor per le ovvie difficoltà che stanno incontrando quindi abbiamo deciso di aprire come si suol dire al finanziamento libero da parte delle persone quindi c'è un IBAN che è quello dell'associazione si può indicare la causale che è incontri quindi lo vedete anche indicato sullo schermo quindi questo IBAN è l'IBAN dedicato al festival quindi ciascuno di voi che è in condizione di fare anche una piccola donazione può essere il modo proprio per sostenere questa iniziativa e fare in modo che l'iniziativa vada avanti. Naturalmente ringraziamo comunque gli enti che ci stanno sostenendo quindi con il loro patrocinio in particolare il Comune di Agropoli che ha dato il suo patrocinio morale e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che riconosce in questa iniziativa un'iniziativa di valorizzazione del territorio cilentano. E con l'intervista di Vito Rizzo abbiamo concluso l'edizione di oggi e vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. Vi ricordo che potete restare aggiornati sulle notizie della città di Agropoli ma anche dell'intero Cilento consultando il nostro sito internet www.cilentocannel.it oppure andando sulla nostra pagina Facebook oltre a vederci in digitale terrestre e su Smart TV. È tutto, vi ringrazio e arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.